Ricordi sì, ricordi no, riserva infinita, infinita riserva. Apollinaire diceva, spesso mi volterò all'indietro. I ricordi sono corni da caccia, il cui suono muore nel vento. Virgilio invece diceva, forse un giorno sarà dolce ricordare anche questo. Cardarelli invece diceva, i ricordi, queste ombre troppo lunghe del nostro corpo. E Pavese diceva, le cose si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno. Ricordare una cosa significa vederla ora soltanto per la prima volta.